La giraffa Marius è morta. Non è stata uccisa dalle leggi crudeli di madre natura nella selvaggia savana africana, ma da quelle più croenti, fredde e calcolatrici dell'uomo. Aveva 18 mesi, il cucciolo dal lungo collo, occhi da cerbiato e in perfetta salute, ma ha avuto la sfortuna di nascere nello zoo di Copenhagen, che partecipa ad un programma dell'Associazione Europea di Zoo e Acquari, che detta rigide regole sulla consanguineità, vietando la riproduzione tra parenti allo scopo di mantenere sane le specie all'interno della struttura. Così la direzione dello zoo ha deciso di ucciderla con un colpo di pistola alla testa. A nulla sono valse le mobilitazioni, la petizione online che ha raccolto migliaia di firme e le offerte di adozione da parte di altri zoo e parchi europei. Nemmeno presa in considerazione l'ipotesi di liberarla nella savana o di farla sterilizzare. Ipotesi troppo crudeli per l'animale è stata la risposta della direzione alle richieste degli animalisti. Il corpo di Marius è stato sottoposto ad un'autopsia a cui hanno assistito i visitatori dello zoo, tra cui bambini, per poi essere smembrato davanti alle telecamere dei media danesi e finire in pasto ai leoni della stessa struttura. Sarebbe assolutamente sciocco buttar via qualche centinaio di chili di carne, ha commentato Bengt Holst, direttore scientifico dello zoo di Copenhagen. La vicenda ha suscitato l'indignazione di molti, ben oltre i confini della Danimarca. L'EMPA, l'ente protezione animali, ha assicurato che interesserà anche il Parlamento europeo del fatto gravissimo e inaccettabile che viola oltre che ogni logica numerose normative.